I know that it's a secret and I gotta keep it but I want the lights on yeah I want the lights on and I don't wanna run the way and me Hi guys, falla galera la chicos, ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video di zio alfix Ovviamente guardate quanto è figo questo xyriss davanti a me, color rosa un po' gay ma caramello credo Però molto molto figo, partiamo benissimo con il palo preso e quindi perdiamo 10.000 posizioni A parte i scherzi raga, è una gara che si intitola, vediamo come Non solo c'è una curva, non posso vedere proprio ora, cazzo alfix deve essere più professionale, c'è C plaza Quindi dovrebbe essere qualcosa di, boh, non lo so raga Sono tutte gare, sono entrati in un elenco partite, sono tutte praticamente gare vecchio stile, non gare stunt Quindi tutte con il, per esempio con il respawn che ci vuole tempo, con le telecamere classiche Giustamente faccio lo stronzo di qua e devo andare invece di qua Bellissimo questo salto, mi ricorda tantissime cose antiche, vecchie e giustamente non prendo il checkpoint Bellissimo checkpoint, ho perso tantissimo tempo Ok raga, partiamo subito e vediamo un po' che cosa possiamo riuscire a fare E che cos'è soprattutto, questo è un warride, un warride classico Ok ragazzi, ho fatto il flip che non se l'ho fatto corretto ma, ok, giriamo così un po' stiloso Sesto posto e cerchiamo di recuperare raga, purtroppo ho perso troppo tempo con quel checkpoint lì Sulla piattaforma, dovrebbero essere mini giri, si tre giri, quindi una TLS, una gara fatta con pochi g Mannaggia ragazzi, questa curva, questo checkpoint qui la curva è messa malissimo Poi un'altra volta vado a sbattere qui, qualche altro sbattimento, di che cazzo Qui dobbiamo scendere e poi girare a destra Vabbè, è una maledizione raga, è veramente una maledizione Vediamo un po', vediamo un po', ok, curvone qui completato Di nuovo questo salt qui, cerco di farlo più, di stare un po' più basso raga Perché sennò non prende il checkpoint, infatti questa volta il checkpoint è preso E andiamo a fare sto warride raga, questa volta di nuovo di prima Quello si è andato a sbattere là dentro raga, brutto Ah no, era solo lag, era solo lag No raga, questa volta ho fatto troppo tardi però riusciamo a recuperare, fare un buon recovery E vediamo di recuperare, ma 13 secondi o più, 8000 il rango di quell'omino lì Chissà raga, chissà, chissà che se non c'ha le macchine pure moddate Perché ho ricevuto alcuni avvisi di gente che c'ha non solo i soldi e il rango moddate Ma anche le auto moddate, mi pare una cosa strana ma ci sta Se le trasferite dalla Playstation 3 a Playstation 4 è possibile, quindi questa cosa non mi piace Più che altro guarderei al secondo posto che è a 8 secondi, fare un attimo più normale Comunque, ok raga, di nuovo questo saltino infame Facciamo di nuovo basso, perfetto raga Saltate nemmo così, normale, senza fare cazzate varie Quarto posto, vediamo se riusciamo a prendere il terzo raga Qui mi riporta sempre che lui è caduto ma anche prima è successa la stessa cosa E poi riuscite ad andare E infatti, no, terzo posto, quest'altra raga, terzo posto Quindi abbiamo, siamo riusciti ad arrivare al podio Quello avanti, no, non ce la facciamo a prendere quello davanti, no Quello è il secondo, porcaeva raga Se magari sbagliasse qui E forse aveva sbagliato raga Vabbè, terzo posto ragazzi, per noi lasciate un like Ovviamente ci vediamo al prossimo video dal vostro zio al fixo Ciao